Parliamo di città slow che ha una forte anima umbra e dorvietana e infatti a Dorvieto si è svolta l'assemblea nazionale di questo movimento che guarda sempre più lontano. Vediamo il servizio di Paolo Marzani. Un ex minuscolo club che da un pugno di piccoli centri italiani, Orvieto, Greve in Chianti, Positano e Bra, dal 1999 ad oggi si è allargato a oltre 240 città in 30 paesi di tutto il mondo. L'organizzazione di città slow insomma in 20 anni ha conquistato un vero e proprio impero di cui Orvieto dove l'organizzazione fu fondata al teatro Mancinelli è l'indiscussa capitale. Si parla tanto di ricercare idee e visioni, beh città slow è una visione che ha un imprinting, una impronta a livello mondiale proprio da Orvieto, Orvieto capitale delle città slow mondiali. La celebrazione dell'assemblea di città slow Italia ha avuto il suo momento culminante nell'apertura della nuova sede, un luogo tutt'altro che chiuso tra pur illustri e antiche pareti. Ci sarà un ufficio europeo che è stato appena istituito collegato a un altro ufficio strutturale in Polonia e poi avremo un archivio internazionale con una biblioteca internazionale anche digitale con 24 terabyte di memoria e una sala multimediale a disposizione della città e dei visitatori per educare alle buone pratiche i progetti di città slow. Una sede affacciata dunque sul mondo globale che il movimento ha davvero conquistato dopo una rapida espansione in Europa, città slow con la sua filosofia che ha lanciato vincendola la sfida al fast life, al fast food e alla digitalizzazione integrale sta sbarcando adesso niente meno che in Cina. Grande attenzione personale al movimento, dicono, da parte del presidente Xi Jinping tanto che nel territorio di Nanchino sorgerà la prima città slow costruita da zero dove si riverberà il riflesso dell'antica città di Orvieto che in tutto il mondo ha lanciato lo slogan Niente smart se non c'è slow.